Una scelta in comune al fine di promuovere l'opportunità più pratica e veloce di esprimere la propria volontà ricevendo da personale preparato tutte le informazioni del caso e volontà della Giunta Comunale di Gela assumere e sostenere iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto come atto di grande civiltà in grado di salvare vite umane. Il Comune di Gela, abilitato dal Centro Regionale Trapianti, sarà infatti inserito nell'elenco dei comuni virtuosi siciliani e potrà raccogliere consensi all'atto dell'emissione o del rinnovo della carta d'identità. Noi ci siamo attivati con le strutture dell'amministrazione, con la sala dirigente Guzzardi la quale ha già fatto tutti gli atti propedeutici per poter dare questo servizio che consentirà finalmente di sollevare i propri cari di una scelta a volte molto complicata, dolorosa e che a volte va pure in contrasto con la volontà invece che uno ha delle persone. Di conseguenza una importante azione di civiltà. Con una scelta in comune dunque i maggiorenni che si presenteranno all'ufficio Nagrafe per rinnovare o chiedere la carta d'identità potranno specificare sul proprio documento se consentono o meno alla donazione di organi. Saranno infatti invitati dall'operatore dell'ufficio Nagrafe a manifestare il proprio consenso o di niego alla donazione sottoscrivendo un apposito modulo. Il territorio si è sempre mostrato molto aperto alla crescita culturale per quanto riguarda la donazione di organi. Questa ulteriore crescita fondamentale per l'evoluzione, voluto assolutamente dai coordinatori regionali e locali, sicuramente ci aiuterà tantissimo noi e la popolazione alla crescita culturale. Il 21 giugno prossimo alle 19, nei locali del Club Avela, sul lungomare Federico II di Svevia, sarà ufficialmente firmata la convenzione tra il comune di Gela, l'ASPA di Calzanissetta e il centro regionale tra pianti Sicilia. Saranno presenti i numerosi volontari e le associazioni ADAS, ADMO, AIDO, ADO, CES Sicilia. Gela deve diventare la città del dono. Non a caso martedì sera al Club Avela ci sarà questo incontro di battito durante il quale verrà firmato questo momento importante per la storia della nostra città. La firma c'è di questa convenzione che abilita il comune a raccogliere le adesioni di volontà, la manifestazione di volontà, diventare donatore di organi sulla carta di identità. Ci sarà il coordinatore regionale del centro regionale tra pianti, la dottoressa Piazza, ci sarà ovviamente il sindaco, ci saranno tanti volontari e soprattutto ci saranno le testimonianze di chi ha effettivamente fatto la donazione. Ci sarà un donatore che ha donato il midollo osseo a dicembre per una ragazzina con la leucemia. Ci saranno anche dei riceventi, quindi chiederanno la loro testimonianza di vita perché sono viventi. Quindi questi sono secondo me i messaggi forti che la città deve ricevere e i messaggi che la gente si aspetta.